ciao a tutte scusatemi l'assenza è un sacco che non faccio video ma tra lavoro una cosa e l'altra proprio di tempo anche per creare zero proprio niente vi volevo far vedere un paio di basi per cameo che mi hanno commissionato e giusto velocemente due stampini nuovi che sono riuscite a trovare dentro una cosa di cinesi qua ma le basi scusate il monocolore ma me ne hanno chieste in tinta saranno tutte viola con qualche sfumatura senza glitter senza niente si vedono sempre una luce io in camera che fa pena però lo stesso poi c'erano che questi quattro che fanno sempre parte della stessa richiesta vieni qui questo è bellissimo secondo me si vedono i glitter un pochino mucchio l'altro sempre viola un po più chiaro dovrebbe essere venuto è una fatica tirare fuori questi che fatto pelino un po più chiaro anche delle mani merda faccio il video veloce perché per una volta che c'è un po di luce decenti in questa camera ne approfitto poi se questo sempre col toni del viola e questi due praticamente tutto uguale questo e quest'altro che è sempre un tono di viola praticamente identico vi ricordo che per qualsiasi ordine personalizzato potete scrivermi ovunque sia su facebook etsy eventualmente ebay o anche qua lascio nell'info box tutti i dati comunque e niente gli scampini invece fanno parte della nuova linea dei cabochon che volevo provare a realizzare questo è uno sono tutti a sfondo opaco me ne sono fatto una ragione li volevo tutti costi li ho pagati praticamente niente 5 euro tutti e due me li faccio andare bene questo qua tema marino sono veramente piccini vedete dal dito però mi piaceva l'idea di fare della roba un po a tema e questo è uno e poi l'altro norme un po' un po' un po' un po' strano non so direvi effettivamente sono tutti quelli da cake design scusate ma non sono delle foglie una rosa enorme che sarà probabilmente l'unica che non uso ma mi piacevano questi qua tutti ghirigorati e niente queste sono alzo vamo là oltre al disordine che c'è sulla scrivania e niente spero domani di riuscire andare al mondo creativo comunque nel fine settimana di comprare un'esagerazione di boiate e vi farò un video comunque se riesco anche mentre passeggio se non mi danno per pazza dentro al mondo creativo e quindi niente un saluto alla mia bestia che per una volta non mi ha disordinato tutto il materiale e niente alla prossima ciao